Bentornati ragazzi sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qui per andare avanti con Chorus per un nuovo episodio Allora, riprendiamo da dove c'eravamo lasciati Innanzitutto, riprendiamo Allora, il sentiero verso il barco, trova il capitano, Aistan, e le sue navi Ok, quindi dovremmo andare per forza di cose al cantiere Trom Per forza di cose Aspetta un attimo, è stato tutto storto Un attimo, eh, com'è che si faceva già Accusare già, non mi ricordo più Ristabilirsi Ho un attimo di vuoto di memoria in questo momento, ma vabbè Allora Ok, ci siamo Con calma, con calma, con calma C'è un po' di gente qua E non è gente molto simpatica Aia Era un po' incastrato leggermente Dove avercela fatta in teoria Ah, ma c'ho una nave dietro Chi è? Sai che c'è? Allora Dove sei? Non scappa, non scappa Vieni qua, vieni qua C'è qualcun altro? Non sembrerebbe di no Così su due piedi, eh, in teoria Quindi possiamo andare avanti tranquillamente Cecchino in vista Torretta carica Attacchi di precisione potenti Aia Vabbè, ma sono molto facili da Ah I'm listening Please identify Rii senti me And Admiral Cardo Check his ID Confirmed But a cult ship Who are you? Call me Nara I'm getting you out Faceless corruption is locking down the ships These pulsing hearts seem to be linked Yes I must disrupt them all at once For each ship Quindi cos'è che devo fare di preciso? Che non ho ben capito Un secondo, eh Che dovrei fare? Liberare le navi E come ne posso liberare? Così, è domanda Forse da fuori? Prova a cambiare, ma No, sto solo morendo io E come posso fa? Ah, forse da qua? No Non so come poterla liberare Liberale Vi aiuto Ah, i tuoi della tempesta Non mi ricordavo Scusate Allora Dove cavolo stanno? Qua c'è roba, però Tanto che ci siamo Prendiamola Qui un attimo, eh Ah, ma ho capito Vabbè, ma E mi sa che dico La peva dei nemici, vero? Questo vago sentore E infatti Non so perché Mi immaginavo Non so perché Mi immaginavo Che ci fosse gente Pronta A attaccarmi Dove sei? Dove sei? Vieni qua Calma, 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 calma Ma non ha già tutto Perché sto a morire? Domanda legittima Ok Ok Mi sa che devo prima Distruggere le navi Aia Aiuto Ancora una parte qua Ok Perché se mi sa che Se non distruggo le navi Continuano a spawnare I nemici Non è proprio la cosa Che io voglio In questo momento Ah, c'è un'altra nave? No Liberiamo questa Liberiamola Questa è Devo fare Non ho ben capito Cosa devo fare? Aiuto Su queste ne fregate Non ho capito Cosa sono le fregate Io comunque Domanda Ah, forse è qua Credo Credo Non aveva partita Però Aspetta un attimo Ah, ecco 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 Dovevo solamente Dovevo solamente Liberarli tutte In qualche modo Arrivano i nemici? E che t'aspettavi? Esatto Sali su da spirito Proviamo Andiamo E come si fa andare avanti? Così Ok Distruggi il nucleo Dove è un po' lenta girarsi Leggermente lenta girarsi Leggermente Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta? Manco io so come Meraviglioso Vai vai Che siamo immortali Ora Siamo over power Siamo veramente over power In questo momento Nessuno può farci male Forse Ripeto Forse Che cavolo sta il nemico? Ah, eccolo Ma che vanno incontrare? Si va in su No, va bene Si va in su Scusate Errore mio Ma domanda In quanti sono Questi nemici? Ma sono in tantissimi Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sai com'è? Dovevo fare cose importanti Arrivo, eh Non mi sembra sto gran che Pensavo un pochino meglio Ad essere sincero, eh Boh Mi sento molto deluso Molto Sei abbastanza deluso, eh Da quello che mi è andato Vabbè, comunque And you never gave up, Captain Never Admiral Cardo I don't know where you found Nara But we'd be dead without her Glad to have you back, Captain A-Stam Keep her close She may be our secret weapon Come on, Captain We need you Cold Slayer We need to talk Cardo Out A change of mind? No He just realized we're running out of time with the rift Allora Missione completa Per le parazze del barco E' ok, va bene Ce ne sono un sacco di cose da fare che non avete idea Ma ok Allora Mamma mia, quante cose Potremmo andare qua? Si può andare? Dov'è che posso Posso Spostarmi? Qua Qua Andiamo lì vicino In modo che Posso fare cose E ok Così siamo più vicini Allora Abbiamo diverse cose Volendo Tipo questa Potremmo andare a vedere cos'è Intanto E non farci manca nulla C'è qualche secondaria da fare Perché Sapete Vorrei esplorare il gioco Il più possibile Qua ci deve essere qualcosa Mi sa che tipo Sono soldi o Cose del genere Infatti si Sono crediti Sono crediti E io che credevo Fossero cose più interessanti Invece 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 nada 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 Avantposto Di Neju Vediamo un'occhiata Ma si Tantanto che siamo qua Ma che è successo? Accelta l'indagine Indaghiamo Qua c'è il ricordo Segui da Shia Mi porta qua Mi porta qua la Shia Ma Accedi al portello Acceliamo Vediamo Magari qua dentro Dai Se c'è un segno vitale Sì Scusi Una bella voce Niente Perché sono dietro No Sono dietro Caro mio Non sono davanti Ho già paura Amorite Amorite Infused Amunizio Standard Wolf Rounds What's Different One Round Equals One Dead Ship How Project Werewolf A Weapon That Turns Any Amunizio Into Wolf Rounds And Then We Amplified Its Explosive Force Significantly They Won't Tear A Planet Apart But A Single Volley And Destroy An Entire Convoy I Will Stop What I Started And You Must Help Me You Think Of All People You Know Exactly What Will Happen When This Weapon Falls To The Cult And You Know It Wouldn't Be Any Different With Admiral Cardo No Matter What Justification They Proclaim In The End People Die You Want Me To Destroy All Werewolf Weapon Stocks E Chi L'ha Rubata Eh Mo Dobbiamo Scoprire Chi è Che L'ha Rubata All right Where Is At Maccahaven A Foreman De Jue Outpost You Should Still Find Storage Records There And You I Stay Low Destroy Weapons Didn't Make Many Friends Cass Out Ok Allora Allora È Qui L'arma È Qui Noi Siamo In Questo Momento Qui Da Queste Parti Quindi Un Attimo Quindi Si può Mettere Oh Siamo Quasi Arrivati Allo Spazio Porto Di Macca Vediamo Chi Ci Attende Forse La cosa Più Importante Everyone She's Here Captain Astan This Is Who Saved Us It's Quite A Story Another Time Captain Of Course Ri Come In How's The Rinak Haven Engineer Working Out Ariana She's Brilliant No Ri You're Brilliant We'll Get her Into The Rift In No Time We're Almost There Nara Ri Out There She Is The Ma Non era Quellesta Che dovevo Fare In Teoria Ma Era Questa Che dovevo Fa Perché Mi Ho Messo Di Qua Scusate C'è Una Cosa Che Non Che Ma Cosa Mi Cosa Mi Rappresenta Vabbè Non capivo Il Contesto I Never Wanted This But You'll Need Their Support It's Time To Have That Talk Yes Admiral So Nara You Really Want To Kill Your Former Master Scusate Rift To Him I Don't Know But if I don't close it right now everything you ever fought for ends I See Everyone Set course for the Inura installation In the meantime Arianna and I will take control of its laser E non posso fare altrimenti ora E fa niente Mi sono sbagliato Mi sono sbagliato Pensavo di aver fatto bene In realtà Però Infatti non capivo il collegamento da questo dialogo a quello di prima Dicevo ma che cavolo c'entra Vabbè Ok Ora posso salvare Non lo so Si Io ragazzi Prima di andare avanti Salvo qua Salvo qua Così Possiamo andare avanti La prossima volta Da qua Per essere sicuri Perché Questa non so se sia una delle missioni finali Quindi potrebbe prendere tanto tanto tempo Io ragazzi Vi ringrazio molto Ci vediamo al prossimo episodio Vi ricordo anche link in descrizione Per supportare il canale E ci becchiamo Alla prossima Ciao ragazzi